Ben tornati in questo video così si dice, siamo in autostrada quindi fondamentalmente petta fammi piazzare a un cruise control, sto andando a Bagnolomella per l'annuale ritrovo Go Big Day Pellegrini Compound, sarà un festone, si girerà fettucciato, da qualche anno questa parte si fa questo raduno, una volta era un pre Supercross Cup, adesso è diventato un vero e proprio ritrovo tra amici, gira tutti assieme, gli handicappati come me nel pistino d'enduro, chi sulle rampe da freestyle, chi nella pista del Supercross e poi si beve qualche birretta insieme, si ascolta un po' di musica messa dal DJ, si chilla un pochino, ci vediamo dopo in pista, ci dovrebbe essere forse un POV se riesco a farlo, se no questa parte del video verrà tagliata o comunque lo troverete in una parte precedente, verrà pubblicato prima in poche parole, quindi lo troverete primlink in descrizione, che cazzo adesso con le robe lì, ciao! i segni eloquenti del crimine, l'antenna gps, posso portarlo a casa come... no, no! fai l'intro del video, dai che sei più brava di me! non so cosa dire! perfetto! cosa faccio? fai un saluto, di qualcosa! fai l'intro del video, che gloria non me l'ha fatto! no, ma neanch'io non so cosa dire! benvenuti in questo video! quale video? questo! mi hanno dato già la birra, devo ancora girare, però va bene, caldo fa caldo, quindi bisogna idratarsi! buongiorno capo, tutto a posto? ci vediamo tutti i weekend! ultimamente ci vediamo tutti i weekend! un po' troppo! tutto a posto! si dai! che puoi affrontare? ciao a tutti! ciao a tutti! chico, di qualcosa ai followers! seguitici e basta, oggi già seguire basta, quindi divertitevi! sei sempre più stiloso di tu! si si! è un beta ciclista! ha fatto una foto di carattuella, che ragazza di quando detto che lavorava in carriera? ma non ci stavano! notevole! si no, nel senso che... l'intro come l'anno scorso! eh sì, l'ho già chiesto a due persone di fare l'intro ma... ci vediamo dopo! come te nessuno! eh vabbè, fatti i tuoi, fai l'intro! ah, proprio così, mano! day 2022! facciamo schifo anche quest'anno! sono dei trapper! no! alle manette! eccolo qua, all'angolo del 125 team prosecco bevi e dimentica! luca, fai il bravo! dai, cazzo ce ne frega! dai, cazzo ce ne frega! ma quanti anni è che non ti vedo col completo personalmente? un annetto almeno! no, tu due almeno! almeno due! almeno due! non sapevo neanche più... oggi cosa fai? ogni tanto! un cazzo! coppi! giusto bea, per dire di averlo fatto! però la moto c'è, il pilota c'è! non dovrebbe essere, dove dovrebbe essere, per dire! ma quello felice! non dovrebbe essere, ma un cazzo! sono verano! ho! 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 a piano Mario distribuzione del gin tonic gratis, gin e basta, la staffetta è finita, la parte sportiva è finita possiamo disintegrarci alcoolizziamoci, punti di vista, io concordo bravo birra due birre, tre due, due, c'è anche l'altro tre quattro, tre chi la fa la chiusura del video? Samuncina la presentazione la chiusura la presentazione l'ho già fatta chiudiamo, ma no, lo chiudiamo adesso è ancora lunga eh lo so, ho capito, ma io lo chiudo così per solo chiudiamo questo Go Big Day a Bagnolo che quest'anno e siamo molto felici è stata dura microfono internazionale è stata dura però ce l'abbiamo fatta dai adesso riprendiamo adesso andiamoci dei coglioni che lasciate venire qua a bere andiamo a raccogliere le mosche fatemi sentire come cocaina comparisons onde No dame in un mare di... No dame in un mare...